Musica Nell'info point di 5 Stelle con Pietro Smargiassi, poi sentiremo e vedremo anche il senatore Castaldi e l'altro consigliere regionale sono tutti venuti qua per rispetto a un militante storico, un attivista storico del movimento che merita la presenza di voi che siete nelle istituzioni, giusto? Assolutamente sì, lo dimostra la mia voce che purtroppo è bassissima in queste serate ma ci tenevo troppo a essere presenti in questo paese ma soprattutto per il nostro attivista, un attivista storico che da sempre ha dimostrato il senso e il valore della parola attivismo lui in questa settimana ha fatto volantinaggio in paese, in un paese che sicuramente è contrario al Movimento 5 Stelle, in un paese particolare, Regno di Tavani dove per settimane e per giorni ha fatto volantinaggio sotto la pioggia, sotto la neve, agli incroci delle strade perché ci teneva tanto, una persona di quelle che crede davvero al cambiamento e Arsenio è una di queste, crede nel cambiamento come ci crediamo noi per rispetto a questa persona, rispetto al Movimento, anche senza voce siamo venuti qui Arsenio invece tu la voce ce l'hai, credi al cambiamento, ha detto Pietro, perché? Perché nessun altro, eccetto le persone volenterose, non il Movimento 5 Stelle, le persone che vogliono fare qualcosa può fare un cambiamento, i partiti che ci stanno non vogliono fare più niente, vogliono solo mantenere lo status quo a favore loro però, non a favore nostro Però è dura? Beh, è dura per chi la vive, ma per chi sta nella poltrona è peggio Chi sta davanti al televisore penso che... Dicevo che è dura nel senso che poi con questi mezzi tuoi, tanta buona volontà, ma con questi mezzi tuoi ti è difficile aggregare le persone, ma comunque tu vai avanti con la tua volontà Il problema, come ha detto già Pietro, è che qui siamo in un paese difficile non solo per la presenza forte di Fratelli d'Italia, ma anche per la presenza enorme della De Cecco Il punto è che io non ho niente da spartire con nessuno dei due e quindi metto la mia faccia contro Poi giustamente il senatore, il consigliere regionale, gli amici che sono venuti mi danno manforte e anche se non vengono a dire vado avanti per i fatti miei Ho detto presentando la presenza vostra che anche tu hai voluto essere qua nonostante gli impegni, la cosa prima in televisione, poi più tardi al convegno dell'aiuto a Lanciano però fare una puntatina da Arsenio Beh, basta vedere questo luogo in un paese di pochi abitanti una persona che io porto nel cuore personalmente perché è stato presente con me Ai primissimi incontri del movimento conosco le difficoltà che viviamo noi in una cittadina di 40.000 abitanti, posso capire Arsenio come le vive in un paese così piccolo dove ci sono interessi radicati da anni e ha il coraggio di portare avanti le idee del movimento la libertà, il sentirsi liberi di pensieri e di espressione, la comunione e non l'appoggio il sottostare ai soliti partiti politici, quindi per me era un dovere essere presente qua perché chi ama il movimento ce l'ha a cuore, come vedi ecco il simbolo e Arsenio è uno di quelli Gianluca che in questo momento ha un ruolo, non poteva mancare oggi qua Altro vogliamo dire, insomma con questo mal tempo abbiamo visto che sempre più ci vuole manutenzione al territorio che non viene fatta Siamo disastrati, i risultati delle politiche sono sotto gli occhi di tutti è facile poi dopo eventi catastrofici del genere attaccare, ma qua non c'è da attaccare qua c'è stata gente non disponibile, soldi utilizzati per altro il distesso ideologico è fonte di lavoro, è fonte di rinnovo, non viene utilizzato sentiamo slogan, noi abbiamo Alfonso che è il figliocci di Renzi, è identico Renzi, lo slogan era mille cantieri all'anno ad oggi sono stati aperti 33 cantieri, non 800 perché ci sta che il politico ti prenda in giro su questo tipo di numeri ma promettere mille, aprirne i 33 fa ridere ha promesso 9 miliardi alla legge di stabilità alla legge di stabilità l'equivalente importo per il distesso ideologico è molto semplice è pari allo zero, quindi questa gente ci prende in giro da anni se vogliamo continuare a avere il prosciutto avanti agli occhi è un discorso se vogliamo essere artefici del proprio futuro ci dobbiamo mettere in gioco tutti quanti anche nei piccoli comuni e portare avanti le idee sotto un simbolo che è nato per unire i cittadini e per essere artefici del proprio futuro è venuto pure lui che deve risparmiare perché deve mettere da parte un po' di soldi per pagare per il risarcimento d'anni che gli ha chiesto il presidente D'Alfonso di 200 mila euro mi pare e quindi insomma nonostante devi risparmiare sei venuto qua a spendere benzina da... beh intanto il presidente D'Alfonso ha dichiarato in consiglio regionale che è la prima volta nella sua carriera politica che era costretto a denunciare un avversario politico, un consigliere regionale beh evidentemente è la prima volta che ha trovato una vera opposizione quindi questo ci fa onore, anzi potremmo dire addirittura è un privilegio sicuramente non ci fermerà, andremo avanti più forte di prima e non abbiamo paura delle denunce, delle minacce questi sono atti che possiamo definire atti intimidatori ma sicuramente vuol dire che stiamo facendo bene il nostro dovere io sono onorato di essere qui, sono venuto da Pescara e lo rifarei altre mille volte perché a fianco a queste persone attivisti che ogni giorno con dedizione, con passione, con amore costruiscono un futuro nuovo anche in questi paesi noi dobbiamo essere noi eletti, dobbiamo inchinarci e dirgli grazie, grazie, grazie quindi io ci sarò sempre a fianco a loro, ci saremo sempre perché siamo una grande famiglia e questa grande famiglia presto governerà questo paese, noi ne siamo sicuri